bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anzi nuovo vlog io sono Matt04 e lui è mio fratello Kiki bella ragazzi ok, non è che lo devo fare per forza comunque e ragazzi per prima cosa vi dico di iscrivervi al canale qui sotto in descrizione di GamerJDJ FranciGamer95 Tommy04 del Boss e Dado92 forse ne aggiungerò anche altri, comunque ok ragazzi il mio fratello è andato ad aprire la tenda perché non si vedeva un cavolo e ragazzi in questo vlog vi farò vedere qualcosa oh ma sempre quando registro mi devono chiamare che cavolo ok ragazzi era mio cugino, un rompipalle però avrete notato qualcosa ok ragazzi quando sono andato ad aprire la porta a mio cugino mi mancavano le cuffie ok ragazzi non so se l'avrete notato ma dietro di noi ci sono alcuni giochetti dell'Xbox 360 e ovviamente anche un controller sì, è vero senza batterie ragazzi vi farò vedere senza batterie perché ce l'ho da un'altra parte e ragazzi anche qui le batterie però anche queste batterie sono scariche ma noi ragazzi come al solito abbiamo limonei batterie gratis batterie, batterie, vedete e quindi ragazzi abbiamo batterie, 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 batterie ragazzi qui abbiamo i ringo sono buonissimi raga ma non si apre ah raga l'ho aperto e ora ce ne mangiamo qualcuno mmm buonissimi squisiti già sono squisiti se vedi bene quella nuvola sembra dio e ragazzi in compagnia del nostro vlog abbiamo che cosa abbiamo? la mappa di GTA 5 online GTA 5 normale ragazzi ecco la GTA 5 beh ragazzi di questo vi potrò dire che la modalità offline vi scorcerà subito ma se avete un abbonamento a Xbox Live Gold potrete giocare online e sarà molto bello ragazzi ve lo assicuro che non vi scorcerete vi durerà vi durerà tanto ragazzi io dico l'abbonamento Xbox Live Gold che costa 20 euro ogni 3 mesi e 60 euro ogni anno però ragazzi vi consiglio 60 euro ogni anno perché se fate i conti spendete 80 euro facendo quello da 20 ogni 3 mesi se invece lo fate una volta 60 euro un anno meglio risparmiate 20 euro gattetto buoni stiringo questi ragazzi penso che l'avrete già visto Call of Duty Black Ops 3 ragazzi è una merda per Xbox ragazzi per old gen quindi è una merda cioè per Xbox 360 è PS3 invece se lo comprate per Xbox One ragazzi ve lo assicuro non vi scorcerete mai a giocare a questo gioco poi ragazzi cambierà tutto poi come fanno a vendere un gioco senza campagna come fanno a vendere un gioco senza campagna senza campagna porca 50 euro un cavolo però 50 euro ragazzi mi hanno offerto anche questo codice per scaricare Black Ops uno che vi farò vedere ma è già stato usato quindi ragazzi è da un anno che conservo lo scontrino di GTA 5 ragazzi io ho sempre conservato scontrini ragazzi ragazzi scusate se dico sempre ragazzi ma mi viene spontaneo però dovete sapere anche che ormai nessuno gioca alle old gen giocano tutti alle cosiddette next gen ragazzi ovvero quello che vi abbiamo detto prima quindi ragazzi se non avete nessuna console non comprate le old gen ovvero Xbox 360 e PS3 ma comprate una next gen ovviamente anche se costerà un po' di più perché ormai queste console sono arrivate a 100 euro passa e anche di meno quando sono in offerta quindi ragazzi però ragazzi comunque non dico che l'Xbox 360 fa schifo ragazzi perché sicuramente l'ho provate tutte e due ma è meglio la 360 ha più funzioni ragazzi la dashboard è meglio che ne so a parte che il controller si ricarica con le pile quello della PS3 no e un altro svantaggio dell'Xbox 360 è che quando inserite il disco vi si aprirà quel cavolo di cassetto che c'è dal 1990 invece ragazzi nuova tecnologia PS3 inserite il disco e basta però ragazzi attenti quando inserite il disco perché ragazzi se c'è un altro disco dentro e voi inserite l'altro vi si romperà tutto no Cristian quella parte la volevo fare io zitto un po' la faccio io ma che dici la faccio io questo lo metto qui così e questo lo metto qui poi ragazzi non lo metto questo così ok questo lo metto qui che cavolo anzi questo lo metto no ragazzi questo ti voglio far vedere G65 alla webcam non lo faccio allora così però poi cade quella cosa allora Joystick magari lo metto così si può anche me anzi no mettiamo bene lo metto dai perché cavolo bella sta tarta l'uva bella posso mettere vicino al controller così magari poi ok ragazzi questo è stato un piccolo vlog così ci ha girato di fare un video quindi l'abbiamo fatto intanto io che tocco il filo delle cuffie è il mio fratello che si mangia i ringo ma non sono ancora finiti quindi ragazzi mettete un mi piace per questo video ci vogliono solo due secondi a cliccare quel bottone blu iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ragazzi condividetelo ai vostri amici e qui ammett rdj 0 4 è tutto anche a chicchi è tutto vero ragazzi hai finito il ringo ok vai di qualcosa commenta e ci vediamo al prossimo video oh perché mi hai coperto la faccia ma scusa non l'ho fatto apposta vuoi metterti contro di me certo così me lo pagherò ragazzi non vi preoccupate non si sveglierà mai ve lo assicuro dove l'ho buttato ragazzi non si sveglierà mai non si sveglierà mai